Buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro aggiornamento di analisi con l'Evoluta su Nasdaq. Tempo fa, un indice, il tedesco, iniziò ad andare in violazione del minimo da cui era partito un trimestrale con il quale si era violato uno swing di un annuale e, prima che arrivasse la Fed, come sapete ho fatto un video anche su Nasdaq in cui dicevo che purtroppo si rischiava la stessa identica cosa. Poi sono arrivati anche l'S&P500, sempre sotto questo minimo, sempre dopo la violazione di uno swing annuale e con il tempo corretto per l'Evoluta, non per la ciclica, di almeno un T-3 rialzista, laterale rialzista, che poi diventa ribassista. Poi che cosa è successo? Venerdì è successo anche su Mib, quindi potete capire, guardando i video precedenti, che la mia allerta pre-Fed per una continuazione della discesa non era da prendere sotto gamba perché stiamo continuando a scendere. Arriviamo quindi a Nasdaq, che ci interessa. Anche in questo caso era l'ultimo dei mercati che seguo che poteva andare serenamente in violazione dei e ci siamo andati. Ci siamo andati dopo quante barra anche in questo caso? 72. 72 siamo già all'interno di un T-3 trimestrale con la violazione dello swing dell'annuale che ci danno poche prospettive per il futuro, come dicevo. Se verrà confermato che questo non è un raccordo tra che cosa? Un T-3 può essere soltanto un raccordo tra un T-6 e un altro T-6, ovvero tra un ciclo biennale e un altro biennale. E noi abbiamo già un annuale vincolato a ribasso. Quando? Vincolato a ribasso a 73 barre su minimo di durata di un annuale 192 giorni, in media 256, ma 73 meno 92. ci racconta che, sì sì, rimbalzi a parte, il rischio è di continuare, come forse vi avevo già raccontato, a fare un rimbalzo ma poi ritornare giù ancora più decisamente, fare un rimbalzo ma poi scendere ancora più sotto. Per cui preferisco darvi queste informazioni prima di chiunque altro, grazie all'evoluta, e dirvi che sarà proprio il rimbalzo che faremo, che ci dirà, grazie allo swing violato, che forza avrà non soltanto quest'altro T-3 trimestrale, ma anche che tipo di movimento potremmo avere, se verrà appunto confermato l'annuale già ribassista, già vincolato a ribasso, oppure il raccordo. Vi sembra poco? Lascio a voi giudicare come di consueto. Torniamo all'operatività più spiccia? Allora, prima di tutto siamo a 18 barre su minimo 24, se da qui è partito il terzo T-2, per cui sappiamo che se verrà confermata questa centratura, che però sembra la più concreta e corretta, e noi continueremo a provare a rimbalzare anche per far partire eventualmente un T-1, e poi ritornare sotto questo minimo. Questo per il fatto che abbiamo un T-2 vincolato a ribasso, ovvero un ciclo mensile vincolato a continuare a scendere. Questo grava sulla lunghezza oltretutto di questo ciclo trimestrale. La media mobile a 50 giorni ha iniziato a riuncinare verso il basso, non ad andare a provare a salire verso quella 200 per andare in Golden Cross. Un altro segnale è che non stiamo andando particolarmente bene. Se però prendessimo invece come partenza per un secondo mensile, primo mensile questo, 36 barre ci stanno entro le 43 massime, e secondo questo sapremmo che potremmo avere un rimbalzo molto più forte per far partire un nuovo trimestrale. Per cui attenzione, continuo a mettere la freccina anche qui, proprio per questo motivo. E' partito da qui il secondo T-2 che può chiudersi in qualsiasi momento e portarci un rimbalzo, o, disgraziatamente come temo, invece è partito da qui e quindi mancano almeno 6 giorni di ribasso, e quindi tutta la prossima settimana se non fa partire un T-1, e quindi il rimbalzo è un pochino più corposo, e poi di nuovo si torna a scendere, perché se partirà un T-1, quindi primo ciclo settimanale, secondo ciclo settimanale, primo T-1, se parte un altro T-1 dovranno andare in violazione di questo massimo innanzitutto 11.546, dopodiché, se il ciclo è ribassista, sappiamo bene che l'attesa è per un movimento di questo tipo. E la cosa bella è che non aspettiamo soltanto di capire se questo è un raccordo o un annuale come temo che sia, e non è soltanto grazie al rimbalzo capiremo questa cosa, ma anche grazie al rimbalzo che potremo fare la prossima settimana, capiremo se partirà appunto un nuovo T-1, un nuovo T settimanale, e per quanto tempo riusciremo a rimanere sopra questo minimo. Quindi è interessante, la prossima settimana è molto interessante, ma l'interesse maggiore ce l'ho per arrivare finalmente alla fine di questo trimestrale, vedere che rimbalzo verrà fatto, e a quel punto capire se lo swing che abbiamo violato è più forte di un qualsiasi raccordo. Questa è la cosa che mi affascina di più in questo momento, è una voglia pazzesca di capire che cosa succederà, perché in questo modo potrò fare anche analisi a più lungo periodo, e ritornare a proporre la sfida di Natale, ovvero dove saranno più o meno i mercati a Natale, saranno saliti rispetto ad adesso, saranno scesi, saranno più o meno lo stesso livello. Lo scorso anno vi ricordate perfettamente come è finita la sfida, su tutti i mercati peraltro. Se non ve lo ricordate, è qui sul canale. Vi ringrazio per il vostro tempo, vi dico anche un'altra cosa, sarò dal 6 all'8 almeno a Roma, per due eventi, uno, un convegno di opzionisti, e due, probabilmente anche il raduno romano di investing, per cui, se incrocerete qualcuno di familiare a questi due happening, probabilmente sono proprio io. Vi ringrazio per il vostro tempo, e vi auguro una splendida settimana. Arrivederci!